Un altro passo avanti per quanto riguarda il reparto di ginecologia? Sì, un altro passo avanti in un reparto che ha oggettivamente dei numeri e una qualità assistenziale particolare. Loro ricordo il numero dei parti di questo punto nascita che è sopra gli standard nazionali per quanto riguarda, sono 1200 parti all'anno solitamente con un bassissimo numero di cesarei primari. Quindi sono numeri che apparentemente non dicono nulla ma che in realtà testimoniano una capacità professionale sia dei medici che delle ostetriche, che è del personale infermieristico che lavora in questa struttura, sicuramente di alta qualità. Se non vado errato, il punto nascita è col più basso numero di cesarei nella nostra regione. Questo ha garanzia di una qualità assistenziale importante, anche di meno effetti collaterali sui nascituri nel tempo. Insomma, il termine sarebbe eccellenza ma a me il termine eccellenza non piace tantissimo. Sicuramente è un punto importante, è un reparto importante di questo ospedale. La donazione è stata fatta dagli avvocati, anche questo è importante? Certo, io ringrazio il comitato di avvocati note fuori dall'udienza che ho già avuto modo di incontrare in occasione di un'altra donazione. Quindi ringraziamo questa associazione, questo comitato che manifesta una vicinanza sicuramente all'azienda sanitaria, ma poi è chiaro che queste donazioni vanno nell'interesse dei cittadini, in questo caso delle partorienti, delle donne e dei bambini. Quindi noi ringraziamo tantissimo per questa vicinanza di questo comitato, che diciamo ci sprona anche a fare le cose un po' meglio, quindi ha la duplice effetto sia di miglioramento della qualità assistenziale di questo reparto, che ripeto è sicuramente un reparto di alta qualità assistenziale, ma anche è sprone per quanto riguarda l'azienda sanitaria nel cercare di migliorare la qualità dell'assistenza anche in altri ambiti. Grazie 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 Grazie